Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Oggi è un altro episodio dedicato ad un unboxing In particolare dedicato anche al mio sponsor Play Giochi Editor Il quale mi ha inviato questi prodotti Tra cui una tastiera Logitech wireless con mouse wireless Vi faccio vedere ragazzi Diciamo una bella tastiera Poi la Logitech insomma serve a ricazzi sua E poi ragazzi abbiamo una serie di speaker 2.1 Che servono per PC ovviamente E qui ragazzi abbiamo il pezzo grosso Il pezzo grosso che è un computer fisso ragazzi Un computer fisso della Lenovo E questo computer fisso Diciamo non mi interessa tanto la marca quanto il case Ma quanto quello che ha dentro ragazzi questo computer Allora questo computer è un octa core Più un quad core aggiunto ragazzi Quindi è una bella bestiolina tutto ciò che mi serviva Devo ringraziare Play Giochi Editor Per avermi dato questa cosa Anche perché ragazzi per me Come ho detto siccome è il mio sponsor Automaticamente è gratis Quindi a questo punto andiamo ad aprire Come dicevo questo PC ha una Ha una diciamo Un octa core affiancato da un quad core Una scheda video dedicata Insomma diciamo che è un bel pc Si fa i cazzi suoi ragazzi Si fa i cazzi suoi Qui abbiamo tutti quanti i vari accessori Ci abbiamo anche un mouse Fornito dalla Lenovo Adesso non sto qui a farvi vedere Però comunque è un bel mouse Anche se pregio gli editor si è offerto Di inviarmi un pc Cioè un mouse Qui abbiamo il manuale delle istruzioni Abbiamo un po' tutto Tutte le caratteristiche Poi ve le lascerò a schermo Le caratteristiche di questo pc più specifiche E dicendovi Se volete sapere Diciamo tutte le caratteristiche Quello che ha A questo punto andiamo a vedere Suppongo questa sia la tastiera In dotazione con il pc ragazzi Abbiamo una tastiera In dotazione anche Io per fargli unboxing ragazzi Ho proprio Negazione più assurda Perché io vi ho scatto Scasso tutto Rompo tutto Questa anche qui è una tastiera Diciamo che è una bella tastiera Diciamo che è una bella tastiera ragazzi Non è neanche male come tastiera Ovviamente però è Diciamo ha il Come si dice Il cavo che a me Piace poco Anche perché Avevo la mia vecchia tastiera E tutto è al resto insomma Però Diciamo che Come pc è abbastanza completo Passiamo al pc ragazzi Passiamo alla bestia Perché io Ragazzi Lavoravo con il portatile Tutti sapete che io Lavoravo con il portatile E parlando con Playjoke Editor Mi ha detto Guarda se vuoi Ti mando un pc Non mi devi dare nulla Fai un unboxing Del pc E te lo tieni Ti mando un pc Con gli annessi e connessi Io ragazzi Sinceramente Non è che sono stato lì A guardare molto A guardare molte cose Insomma Gli ho detto Quello che mi poteva interessare Più che altro La ram Tutte queste cazzatelle varie Insomma E E quindi nulla Questo ragazzi È il pc Che poi Andremo a vedere insieme Quando sarà montato Vedrò Come va Questo pc E Tutto il resto Ragazzi Tutte le caratteristiche Tecniche Tutto quello che ha Un po' tutto Insomma Diciamo che È un bel pc È un bel pc È una bella base C'è una bella Video Dedicata Quindi Ha belle cosine Quindi passiamo Ad aprire Altre cose E vediamo Che cosa abbiamo Ancora Questo va bene Ragazzi Quella era una breve Inquadratura Del mio gatto Che stava lì A farsi i cazzi Miei Comunque Dicevo Passiamo A vedere altre cosine Ragazzi Allora Questo qui È un Sfigere Per pc Anche se non Ne avevo bisogno Però Play giochi editor L'ha voluto fornire Ugualmente E io Lo accetto Di buon grado È uno speaker Per pc Con un sub Adesso andiamo A vedere Com'è Com'è Vediamo subito Com'è Ragazzi Non vi dico Che sono felice Ma Diciamo di più Perché comunque Era un pochino Che Avevo in mente Di comprare Però purtroppo Le finanze Non lo permettevano E quindi Non l'ho mai fatto Finora Avevo in mente Di comprare Un pc fisso Visto che Come vi ho detto Lavoravo Con un dual core Diciamo Di quelli portatili Spero che Con questo Il mio lavoro Migliorerà Ragazzi Spero di riuscire A fare Delle belle cosine Allora Questi ragazzi Sono gli speaker Vediamo Gli speaker Diciamo che sono carini I speaker Tranquilli Il classico speaker Da pc L'altro Non ve lo apro Perché non c'è Neanche la necessità Visto che sono Uguali Identici Come dicevo Un 2.1 Questo è l'altro Ragazzi Qui c'è La ragazza mia Che è Come Lo voleva aprire Per forza E l'abbiamo aperto Dai Allora Qui c'abbiamo Gli speaker E qui c'abbiamo Il tube Ragazzi Il tube Non è niente di speciale Non è nulla di Così Allucinante Però E' bello Diciamo Nel suo insieme E' abbastanza bello Ragazzi Come vedete Diciamo A prezzi contenuti Quindi se avete bisogno Di Alcuni di questi articoli Vi basterà chiamare Play Joke Editor Qui abbiamo Il tastino di accensione Spegnimenti I suoi cassetti I piedini I cassi e mazzi E diciamo Che nel suo insieme E' costituito Così ragazzi Poi qui abbiamo Il cavetto E va bene Poi abbiamo La tastiera Ragazzi La tastiera Questa tastiera Questa Questa secondo me Pure E' il pezzo forte Ragazzi Vediamo un attimino Dove si apre Tanto Inquadro il gatto Mio Che se fa i cazzi Mieri Allora Qui abbiamo Un mouse Della Logitech Anche la mia Vecchia tastiera Era della Logitech Questo è un bel mouse Ragazzi Mi piacciono Le mouse Così Molto Molto E qui abbiamo E qui abbiamo La tastiera Sempre della Logitech Vi ricordo ancora Questi articoli Li potete trovare Da Playjoki Editor Che è il mio sponsor Ufficiale Del canale Questa è la tastiera Della Logitech Gli oggetti Da PC Quindi penso che sia Una delle migliori Marche Poi questo è un mio Pensiero Ragazzi Qui dovremmo avere Da qualche parte Il sensore Della tastiera Eccolo qui ragazzi Che mi era caduto Questo è il sensore Della tastiera Della Logitech Che comunque Va inserito nel PC E E E Fai i suoi cazzi Insomma Quindi detto questo Ragazzi Questo è Tutto quello Che io ho ricevuto Dal mio sponsor Ok Queste sono Le tastiere Di base Del Del PC Che non le mettiamo Facciamo che non le includiamo E abbiamo anche Il nostro PC Della Lenovo Ragazzi Qui abbiamo Che mouse Che E così Questo è tutto Il pacchetto Che mi ha inviato Playjoki Editor Dopo comunque Ho detto Vi metterò Tutte le caratteristiche Di ogni oggetto Se volete Ve le metterò In video Ma in particolare Quelle del PC Che è un buon PC Ragazzi Quindi se Avete bisogno Di Di alcuni Di questi oggetti O magari Alcuni Oggetti Come questi Però migliori Dovete Dovete contattare Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.